Buon giorno! Ancora piove! Pronti per il combattimento! Pronti ragazzi? La pioggia non ci ferma mai! Siamo sul... Camcoc! Oh che bello! La remata con i piedi! Che ci dite? Banale? Normale, ordinario, in cui ti capita di andare diciamo... Scontato direi! A sprovonti! Finanzata! Girati! C'è un po' di timore? Siamo sotto a una montagna! No, non dirlo! Anche per te, Amphok vuol dire tre grotte! Sì! Quindi è una delle tre grotte questa? Esatto! Vi soffrirà ancora per due? Sì! E poi probabilmente ritorna! guardate quanto è basso! Sì! 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 Allora abbiamo fatto la barchetta con la nostra amica Che ci ha consigliato poi di venire a pranzo in un ristorante che conosceva lei, tuttavia in realtà il ristorante è suo, quindi lei ha fatto il giro in barca e poi è in cucina e ha cucinato come se non ci fossero domani e ha adesso spadella. D'altr'altro Cm, se non sbaglio c'è ancora un negozio di sole. Siete pronti? Sono pronti. Allora, ciabatta e dobbiamo fare solo 500 gradini per arrivare esattamente là, dove c'è il dragone. Ma sono dei ristoranti. Sì, è un'altra cosa. È un'altra cosa. È un'altra cosa. Sì, sì, sì Sì, sì, sì Facce rilassate, voglio proprio vedervi fra mezz'ora 398, 499 Eccoci, dopo i 500 gradini Non ne basta la pena, dai Qui sul panorama ne basta la pena Pazzesco Finanzata Mutito Non ne basta piwear Non ne basta piwear Non ne bastacraft Non ne basta piwear Il nostro tassista che se ne va Ancora una volta Ancora una volta ci lasciano da soli E se ne vanno via Donare gli organi dovrebbe essere legale Niente Cazzo si mette Ah deve andare a giocare a cancello Chiedi se va a che fare running È tornato Tassi in nero Tassi in nero contro tassi regolari No 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 Grazie.